ciao a tutti dato che mi annoio faccio un video così vi mostro la situazione sono ancora in fila per fare il tampone da tanto ormai che sono in fila si sono andata un po più avanti ma non di molto saranno già tre quarti d'ora che sono qua che aspetto insieme a tutte queste altre macchine così vedete meglio qual è la situazione qua in strada dei cacciatori l'appuntamento era per le due e mezza siamo tantissimi primo tampone ho aspettato massimo penso dieci minuti non di più questo è quanto sono in fila per fare il secondo tampone sempre strada dei cacciatori a differenza dell'altra volta non so se si riesce a notare forse dallo specchietto dal numero di macchine dietro e davanti a me ci saranno un centinaio di macchine forse anche più aspettano tutti per fare il tampone